Noi abbiamo iniziato un percorso a ottobre perché abbiamo avuto in mente l'idea di fare non solo calcio ma anche beneficenza, aggregazione fra i vari ordini professionali perché pensiamo che sia proprio questo il modo giusto per fare sport, per fare calcio. Infatti oggi abbiamo consegnato l'assegno dei fondi raccolti all'associazione Triacorda On Lussu per la realizzazione del podio pediatrico del Salento. Dal punto di vista agonistico e sportivo siamo molto contenti della riuscita, ringraziamo le squadre, ringraziamo Santo Sud Sport che ci ha guidato in questo cammino perché tutte le interviste su Facebook sono loro e niente che dire, l'auspicio è per l'anno prossimo di fare qualcosa ancora di più importante. Ovviamente non posso intanto non ringraziare l'amico e collega Alfredo Matranga perché non sono stato l'unico cicerone, ci siamo divisi i compiti, lui su un campo, io sull'altro, abbiamo cercato di accogliere da padroni di casa le squadre, abbiamo cercato di farle sentire a casa loro, abbiamo cercato di dare il meglio che potevamo mettendo a disposizione delle strutture di primo ordine nel Salento e questo è un dato oggettivo. L'auspicio è quello di ripeterci con maggior zelo, maggiore dedizione e maggiore passione, anche se più di quella che ci abbiamo messo in questa edizione è difficile. Noi il risultato sportivo, sinceramente non dico che non era in primo piano ma veniva dopo, la cosa più bella è aver raccolto i soldi per l'associazione, quindi Triacorda, per i bambini, per il polo pediatico, ovviamente nessuno gioca a calcio per perdere, sappiamo che dobbiamo migliorare anche dal punto di vista della squadra, abbiamo individuato le carenze e sicuramente interverremo migliorando. Sì, in più occasioni, allorché si presentò in conferenza stampa il primo campionato degli ordini professionisti del Salento, ebbe a dire che a questi livelli i professionisti, o meglio il calcio, debba essere soltanto un mezzo per lanciare dei messaggi. Ecco, il messaggio che abbiamo cercato di lanciare è quello dell'aggregazione, fare rete tra professionisti, ma soprattutto fare solidarietà, ed è quello che nel nostro piccolo abbiamo fatto. Il prossimo appuntamento sicuramente sarà per novembre, novembre ripartirà la seconda edizione del campionato degli ordini professionisti del Salento, abbiamo già raccolto l'adesione di nuove squadre, perché effettivamente quello che ci siamo lasciati alle spalle ha riscosso tanta eco mediatica, tanto successo e ha raccolto l'entusiasmo e soprattutto la voglia di iscriversi di squadre che invece non hanno preso parte alla prima edizione dello stesso. Certo, sì, è stata una partita molto dura sotto l'aspetto agonistico, però abbiamo dimostrato di avere carattere, anche perché era qualcosa che avevo già notato nelle partite precedenti. La squadra degli Avvocati è veramente un'ottima squadra, soprattutto dal centrocampo in attacco, ci hanno messo in grossa difficoltà, però non siamo stati da meno, insomma, con l'occasione della traversa, il colpo di testa ben parato dal portiere. Devo essere sincero, insomma, la squadra, i miei giocatori sono stati all'altezza della situazione, soprattutto dal punto di vista mentale, quello è importante. Tenere duro anche il pareggio fino all'ultimo, e ci poteva anche andare male con quell'occasione, in cui è stato bravissimo il portiere, diciamo, ci ha consentito poi di arrivare ai calci di rigore e sappiamo benissimo che i calci di rigore sono un tornallotto. Però anche lì, ho sempre detto, lì vince la gara dei calci di rigore chi è più convinto e abbiamo dimostrato di avere convinzione in questo senso. Una manifestazione da replicare, assolutamente sì, tra l'altro organizzata in maniera perfetta dall'Ordine degli Avvocati di Lecce. Prima persona il Presidente Cristina Primiceri, coadiuvato dall'Avvocato Matranga, che oltre ad essere dei grandi professionisti sono anche, bisogna dirlo, grandi miei amici. Un'avventura iniziata ad ottobre con il campionato provinciale, conclusasi oggi con le finali nazionali, a cui hanno partecipato ordini da varie parti d'Italia. Una bellissima festa di sport, conclusasi con una partita attiratissima tra due squadre che hanno messo tanto in campo. Non dimentichiamoci che hanno giocato tre partite in una settimana, tutte ravvicinate, quindi con il caldo asfissiante bisogna anche capire che il fisico ne risente. Però, nonostante tutto, è stato un bellissimo spettacolo anche stasera. La partita è fine dai rigori, facciamo i complimenti ai fisioterapisti per la vittoria del primo campionato degli ordini e delle professioni, con la speranza che dall'anno prossimo, rinnovando il protocollo d'intesa che la provincia quest'anno ha voluto sottoscrivere per questo campionato, possa portarci ad un livello ancora più alto con il coinvolgimento di tante altre squadre da tutta Italia.